salve a tutti ragazzi io sono abogole vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale un video molto particolare che ho voluto fare per fare un piacere a una persona che io stimo a una persona che conosco tramite youtube e che ho avuto anche il piacere di conoscere dal vivo che è luca e infatti ho preso questo suo primo volume del primo manga suo primo manga tema proprio con una storia a volumi che è death shield non è solo lui l'idiatore di questo manga perché luca si è occupato della sceneggiatura ma per quanto riguarda la trasposizione dei disegni e della tecnica dell'animazione ovviamente su foglio c'è giorgio giorgio battisti che è il disegnatore tra l'altro l'ho trovato veramente veramente bravo nella trasposizione del volto e delle caratterizzazioni di alcuni disegni di alcune tavole molto particolari che tra l'altro non posso dire per non spoilerare a voi che magari non l'avete letto ma fidatevi che da un punto di vista tecnico il salto in avanti da memento mori si vede e beh se voi mi direte grazie al cazzo ho conosciuto luca al b comics di padova come avevo detto prima ed è stata una situazione un po particolare perché tra l'altro io sono andato lì proprio con l'idea di comprare anche questo volume qui visto che a maggio che è il mio compleanno tra l'altro il mese del mio compleanno uscirà il secondo volume detto ah me lo faccio anche autografare dato che ci sono ho avuto modo insomma di mettermi in coda e fare la fila un po come tutti quando mi fa almeno luca oh che nome vuoi che scrivo qui detto ah scrivi pure obogul e tra l'altro lui ci è rimasto un attimo perché ha detto ma come si scrive aiutami cioè è il nome che uso su youtube perché lui mi fa ah ma c'è un canale youtube e tu si fondamentalmente faccio un po quello che tratti anche tu e mi piacerebbe poi se non fosse un problema realizzarci un video dopo mi sono preso il mio tempo per analizzare bene questo volume che ho preso come detto una settimana fa dalla realizzazione di questo video per poi portare un video di quella che sono di quelle che sono le mie i miei pareri le mie opinioni e tutto quanto ma prima di iniziare a parlare di questo vi invito a iscrivervi al canale se foste nuovi attivate la campanellina in descrizione trovate tutti i miei link social eccetera e questa è la maglietta di pampling sotto trovate anche il codice sconto obogul 5 avrete il 15 per cento di sconto la storia di questo manga qui del primo volume è ambientata in un futuro un po distopico nella metropoli di shin dove c'è questa organizzazione particolare la life shield che diciamo che da quello che sono riuscito a capire io è una sorta di organizzazione di tipo no butta fuori ma guardia del corpo ma guardia del corpo anche di un certo livello perché proteggono persone di un certo calibro sociale e in questa metropoli c'è il protagonista di questa vicenda chris che ha dei poteri particolari che fondamentalmente riesce a prevedere un po tutto quello che gli accade intorno e riesce anche a prevedere la sua morte mettendosi anche nella situazione per cui riesce pure ad evitarla tutto questo poi dopo cosa gli causerà gli causerà il fatto che questa life shield entrerà in contatto con lui ma con la sua sezione più particolare la death shield quindi l'elite dell'elite e questa è la trama senza scendere troppo nel dettaglio negli spoiler devo ammettere che è una trama un po particolare una trama che sinceramente non mi ricorda niente di già visto nel panorama dei manga una cosa che però ho apprezzato tantissimo è la componente tecnica dei disegni una cosa che mi ha colpito molto è il personaggio di nome christine come è stato diciamo interpretato qui dentro nel senso come è stato disegnato gli occhi i capelli il volto i lineamenti sono qualcosa di veramente figo una cosa che però non ho molto capito è sinceramente la sceneggiatura narrazione e trama sono due robe che devono correre di pari passo e che se la narrazione è figa ti fa percepire una storia altrettanto figa è pieno di opere con una trama semplice ma una narrazione figa in questo caso qui la narrazione o la sceneggiatura l'ho trovata ad alcuni tratti abbastanza superficiale nel senso sono riuscito a capire ciò che accadeva fondamentalmente perché ero in grado di immaginarmi ma diciamo che non ti seguiva secondo me la cosa la narrazione non era all'altezza secondo me il maggior problema di quest'opera stia proprio in questo tuttavia c'è anche da considerare il fatto che questa non sarà un'opera come one piece o attack on titan o dragon ball quindi opere con centinaia di volumi i volumi saranno limitati quindi per forza di cose la narrazione dovrà essere di un certo livello sì ma avrà delle limitazioni pesanti quindi non mi sento di essere troppo critico sotto questo punto di vista anche se secondo me è una criticità che potrebbe quanto meno essere valida come critica costruttiva si intende per quanto riguarda invece tutto il resto i dialoghi e quant'altro anche loro secondo me potrebbero essere migliorati sotto un punto di vista più dettagliato all'interno della vicenda tra l'altro una cosa che mi ha colpito molto è la dedica che mi ha fatto luca e grazie tante per la fiducia questo suo grazie per la fiducia io l'ho interpretato come grazie che tu mi stai dando fiducia per una cosa che mi piace fare la mia passione che un giorno vorrei far diventare il mio lavoro e che purtroppo però mi renderà al centro di un mare pieno di squali e io sarò un pesciolino all'inizio l'unica cosa che andrebbe rivista è la sceneggiatura e come è stata presentata poi tutta la vicenda alcuni punti e specificare alcune cose queste però vengono con l'esperienza non ci si può aspettare che venga fatta un'opera che possa per farti percepire non lo so delle sensazioni tipo la berser che roba così subito se luca fosse stato in grado di fare una cosa di questo genere cioè sin da subito alla sua prima opera volumetica se così si può dire quindi c'è anche da considerare che la sua prima effettiva opera di questo tipo quindi non mi sento in dovere di criticargli più di tanto questo punto di vista ed essere troppo duro perché non si può non puoi diciamo analizzare la cosa allo stesso livello di un non lo so one piece ci vuole esperienza l'esperienza della sceneggiatura può venirti anche col tempo e come vi ho detto prima il tempo è limitato i volumi sono limitati quindi per forza di cose a livello proprio di pagine non è che ci possono stare delle spiegazioni troppo dettagliate perché si andrebbe a incasinare tutto dopo forse no quindi mi è piaciuto o non mi è piaciuto questo death shield a me fondamentalmente è più piaciuto che non piaciuto non è un'opera che secondo me potrà essere la migliore che avrai creato uno youtuber no quello no c'è da migliorare ma la carne al fuoco sotto c'è è un diamante che secondo me è ancora grezzo ma che può essere lavorato e può veramente brillare tanto come le luci che mi stanno cercando adesso quindi io invito veramente luca a prendersi il suo tempo perché questa storia qui potrà realmente darci qualcosa di figo più avanti alcune scelte non le ho comprese come il finale per esempio ciò che accade a christine ma io credo che ci sia una spiegazione dietro e che non vada a finire così per un personaggio come christine c'è qualche legame secondo me con christine e il capo della death shield e i due vogliono secondo me qualcosa da chris ma di base ne discuteremo più avanti questa non era una recensione completa era un'opinione la recensione completa ho intenzione di farla a volumi conclusi a manga concluso quando usciranno i vari volumi farò i vari video opinioni quello sì detto questo comunque ragazzi vi invito a scrivermi qua sotto nei commenti i vostri pareri su quest'opera se l'avete letta e se non l'avete letta vi lascio anche il link di amazon tra l'altro che lo potete magari ovviamente acquistare anche da lì se non lo potrete vedere in fiera quando c'è luca comunque ragazzi come detto spero che il video vi sia piaciuto ditemi cosa ne pensate ringrazio comunque anche luca e giorgio per comunque queste perle che ci sono perché tra l'altro loro si mettono in gioco per qualcosa a cui piace a cui vogliono dedicarci del tempo quindi è per questo che io li rispetto e li stimo molto ditemi cosa ne pensate nei commenti da qui a bogolo è tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video ciao a tutti i bolidi